Siamo insomma curiosi di questa prima che ci sarà stasera con un inedito attore che è il Luco Orlando che da primo sindaco fa anche una parte importante su questo Perino del Lupo. Noi siamo felici che il sindaco abbia accettato questo invito perché veramente ha dato dimostrazione di grande disponibilità e di grande amore per questa città come stiamo facendo un po' tutti noi che stiamo cercando di riportare ai giusti valori questa fondazione e l'orchestra sinfonica siciliana. Il sindaco è stato molto bravo fino a ora e spero che anche stasera riesca a svolgere il suo compito di voce recitante come è andato bene nella prova generale anche al concerto di stasera. È un segnale importante per la città, è un segnale di apertura, è un segnale per Paraermo capitale, candidata a capitale della cultura europea nel 2019 e quindi ci teniamo molto. Oggi è una giornata purtroppo anche triste perché abbiamo letto tutti e appreso dai giornali quello che è successo e quindi chiederemo anche un minuto di silenzio prima dell'inizio del concerto. Qualcuno aveva detto annulliamo il concerto, io non sono d'accordo, però diamo anche noi un segno tangibile, una dimostrazione. Peraltro so che l'amministrazione comunale farà lutto cittadino sia sabato che domenica. Francesco Gutta d'Auro è il sovrintendente, io sempre lo ripresento perché è arrivato da poco, insomma lui è anche un esperto musicista per la prima volta un sovrintendente che si intende di musica, ma in quanto ascoltatore, fruitore di musica, di concerti e quant'altro, come lo vedi Luca da non musicista in questa azione in mezzo a un contesto di bambini, di grandi musicisti? Se la cava perché lui alla fine non legge la musica. Lui non legge la musica quindi è importante che il direttore dia gli attacchi al momento giusto perché se sbaglia di due secondi si blocca tutto ed è questa l'unica cosa che noi in effetti tenerevamo. Abbiamo fatto molte prove, spero che ci sia quell'intesa che si è raggiunta oggi alla prova generale. Luca comunque è un grande attore, un istrione per natura. I bambini oggi che erano presenti alla prova generale, perché abbiamo aperto la prova generale alle scuole, erano tutti felici, hanno applaudito, hanno chiesto pure il bis. Speriamo bene, io incrocio le dita. Allora, mentre il direttore d'orchestra dirigerà con la sua bellissima partitura questa opera Pierino e il lupo, il nostro sindaco invece farà la sua parte con un bilancio comunale in mano. Credo di sì, peraltro ha dato comunque grande anche disponibilità alla fondazione per rivedere la convenzione attualmente in atto, in modo da poter dare un supporto ancora più pregnante rispetto a quello che è stato dato negli anni passati. Adesso è un passo successivo, io sto cercando di fare tanti piccoli step, non si può fare tutto in un minuto, nessuno ha la bacchetta magica, però se c'è la volontà, io prendo esempio la favola di Pierino e il lupo. Ci vuole un po' di pazzia, una lucida follia, determinazione e coraggio per andare avanti. È quello che fa Pierino e riesce ad acchiappare il lupo. Vediamo se anche noi riusciamo ad acchiappare il lupo. Che il lupo c'è. Uh, se c'è. Ci vediamo stasera al concerto. Grazie. Grazie.